Oggi, in questo appuntamento a Galassica, il Festival di Astronomia, con Willy Guasti Ciao a tutti, ciao, mi fa piacere essere tornato Anche a noi moltissimo e oggi ci parlerai proprio a tema del Festival di spazio e l'umanità, però siamo calmi Esatto, esatto Quindi siamo tutti curiosi di sapere di cosa tratta questo intervento, perciò ti lascio subito la parola Se ci sono domande potete farle sotto questo intervento o via messaggio privato Prego, a te Ciao, grazie mille Allora, ciao a tutti Insomma, ben trovati, mi fa piacere, come dicevo, tornare a Galassica dopo almeno un paio d'anni E niente, visto il periodo un po' strano si fa qualcosa in diretta, insomma, per quanto mi riguarda La scelta del titolo, insomma, che è effettivamente quella, cioè spazio e l'umanità ma siamo calmi Mi è venuta proprio subito, ci è venuta distinto quando mi hanno chiesto di cosa mi sarebbe piaciuto parlare Perché sì, l'umanità sta facendo un sacco di cose incredibili Sta raggiungendo dei posti che fino a relativamente poco tempo fa erano inarrivabili E non sto parlando solo dello spazio, ma sto parlando per esempio anche delle profondità marine Anche in realtà delle profondità della terra, quindi grotte particolari, eccetera Quindi insomma, tanto di cappello Però noi abbiamo la brutta abitudine di imporci un attimino troppo Quando raggiungiamo un posto che prima non conoscevamo Perlomeno questo più o meno l'abbiamo sempre fatto Infatti partirei raccontandovi una cosa L'altro giorno, cioè il 5 ottobre se non ricordo male, è uscito uno studio su PNAS Cioè da una rivista, Proceedings of the National Academy of Science Che parlava delle Bahamas, no? Le comunità di uccelli delle Bahamas La vifauna, quindi delle Bahamas Appare oggi piuttosto frammentata Insomma, non sono delle comunità ben radicate, eccetera Ecco, uno studio ha fatto luce sul perché Ah, fondamentalmente si sono studiati più di 7600 fossili di uccelli Provenienti appunto dalle Bahamas E appartenenti a 90 specie di uccelli Alcune delle quali ancora presenti alle Bahamas Altre invece ci sono ancora Ma non sono presenti in tutte le isole delle Bahamas Sono relegate solo appunto in alcune isole dell'arcipelago Anche se prima magari erano anche su altre isole Oppure sono scomparse dalle Bahamas Ma ci sono in altri posti Altre invece sono proprio specie estinte Quindi insomma una comunità piuttosto frammentaria Che ha avuto un discreto declino A partire da circa mille anni fa Cosa è successo mille anni fa alle Bahamas? Mille anni fa alle Bahamas siamo arrivati noi Quindi fondamentalmente è un dato di cui tenere conto Non è chiarissimo se sia effettivamente colpa nostra diretta Che le abbiamo cacciate per mangiarle O per altri motivi O perché fondamentalmente ci siamo espansi Diciamo togliendo loro degli habitat Insomma quindi va un po' avviso Però questo è uno studio che si può far scalpore Ma è una cosa che in realtà Ora non parlo del caso specifico delle Bahamas Ma in generale che siamo appunto Delle creature un po' invadenti Si sa da tanto tempo Tendenzialmente estinzione è una parolaccia Che se io appunto ve la introduco Probabilmente la primissima cosa Che vi verrà in mente sarà questa No? L'immagine proprio classica Se io parlo di estinzione è questa Ovvero E chi ovviamente mi conosce anche lo sa Dal momento che ho un certo ascendente Per questo tipo di argomenti È il classico asteroide E si schianta sulla Terra E non un asteroide qualsiasi viene in mente Di solito viene in mente l'asteroide Che ha fatto fuori i dinosauri Ok? In realtà non è che li abbia fatti fuori proprio tutti Perché gli uccelli Che erano già presenti Sono l'unico gruppo di dinosauri Che è riuscito a sopravvivere a questa catastrofe Per vari motivi Ma vabbè Ora non ci interessa Fatto sta che comunque Questa qua Che è l'estinzione di massa di fine Cretaceo Avvenuta 66 milioni di anni fa E che è il tema che alla fine parlai Di cui uno dei temi Perché feci più cose La scorsa edizione di Galassia Che partecipai Però uno dei temi era proprio l'estinzione No? Di fine Cretaceo Tendenzialmente è un'estinzione di massa Perché è stato un cataclisma a livello planetario proprio Che ha causato una riduzione della biodiversità sulla Terra Mostruosa Però ecco L'estinzione in realtà è un processo che in natura è Diciamo naturale Nel senso che l'estinzione succede Cosa differenzia quella cosa lì Dall'estinzione normale Tra virgolette Il fatto che è di massa Cioè Come dire Interessa anche dei gruppi di animali Che se la passano benissimo Perché di norma l'estinzione è selettiva in natura Cioè va a colpire Solo appunto Quei gruppi di Di organismi Che sono molto specializzati Relegati appunto In una nicchia ecologica Molto specifica Quindi al minimo variare Delle condizioni ambientali Per esempio Non ce la fanno diciamo a A sopravvivere L'estinzione di massa Ti arriva tra capo e collo E fa fuori Diciamo quasi indiscriminatamente In realtà indiscriminatamente no Perché c'è sempre chi comunque Per qualche motivo Questione di fortuna Riesce ad avere le carte in regola Per sopravvivere Vedi per esempio gli uccelli Rispetto a tutti gli altri dinosauri Però insomma Tendenzialmente fa dei bei danni E pensate che Fino a poco tempo fa Si pensava che fossero solo 5 Le grandi estensioni di massa Che insomma Dall'inizio della vita sulla Terra Sono alla fine Pochi Eventi Diciamo Sto parlando di quelle Proprio registrate A livello Di record fossile Ce n'è Uscita un'altra Un evento di estensione Che già si conosceva Ma che ultimamente È stato Presentato come Effettivamente Un'altra estensione di massa Che è l'evento Pluviale carnico Che è Uscito fuori appunto Nel Nel Triassico E lo studio che Tanto lo ha elevato Tra virgolette Al livello di estensione di massa È molto recente Insomma Quindi Però a parte questo Quindi diciamo che ci sono state 6 estensioni di massa Ci sarebbe in corso Anche la Settima O la sesta Se non contiamo appunto Quest'ultimo episodio Pluviale carnico Ovvero quella Che secondo Molti Studiosi Stiamo Causando noi Quindi C'è sì Un'estensione di massa Causata Dall'uomo Ora vi faccio vedere Un'altra cosina Che è Un grafichetto Simpatico In cui Fondamentalmente Si vede Appunto Il numero Di specie estinte Nel corso degli anni Né a partire Tipo dal 5 Dal 1500 E arrivando fino agli anni 10 Del 2000 Quindi comunque una roba Piuttosto recente Comunque no 2010 E vedete che Qui c'è una riga Che è Beginning of industrial revolution Cioè L'inizio della rivoluzione Industriale E oibo Da dopo La roba Comincia a Estinguersi A livelli Notevoli Insomma Sono centinaia Letteralmente Le specie Si sono estinte In tempi storici Per via dell'uomo Come appunto Possiamo vedere La maggior parte Sono Sono vertebrati Uno potrebbe dire Beh in realtà I vertebrati Sono quelli Di cui abbiamo Maggiore prove Perché Tendenzialmente Gli animali Come I invertebrati Molto piccoli Oppure anche Gli insetti Che ce n'è Dio solo sa Quante specie Ha ancora da scoprire Potrebbero anche scoprire Scomparire Senza ce ne rendiamo conto Perché magari Sono molto piccoli Eccetera Questo in realtà Vale anche per altri Animali un po' più grossi Vertebrati Però insomma Tendenzialmente Qui ci sono i vertebrati Perché sono quelli Per cui si hanno dati Più Più robusti Diciamo Semplicemente Per questo E quindi vedete Che comunque Inizia dal 500 Sta storia È un viziaccio Che ci portiamo dietro Da un po' Da quando abbiamo Veramente incominciato Ad andarcene in giro A colonizzare Armati di buone intenzioni Ma in realtà Armati per davvero Insomma Ma questo è un altro discorso Che cos'è Che causa Diciamo Tutte queste Questi fenomeni Di estinzione In tempi storici Specialmente appunto Nell'ultimo secolo In grosso modo Beh Anzitutto L'urbanizzazione Cioè Quando Si Comincia appunto A espandere Le città umane Per appunto La crescita di popolazione E Questo ruba spazio A Agli habitat Appunto Dove vivono Altre specie Chiaramente Può essere Che siano specie Che dipendono molto Da quell'habitat E che sono magari Specializzate E non riescono A trovare Un valido Alternativo Questo Vale specialmente Per le specie Che non sono generaliste No Magari ci sono specie Che hanno imparato Anche a convivere Con l'uomo E anzi A sfruttare Questa vicinanza Con l'uomo Avvicinandosi Alle città Mi viene in mente Tanti uccelli Come per esempio I passeri O addirittura I falchi I pellegrini O magari I mammiferi Come le volpi O i procioni In Nord America Questo succede Chiaro C'è chi è più Portando in giro Anche con noi Altri animali A volte Consapevolmente Come animali domestici A volte Inconsapevolmente Come per esempio Che ne so Rate Topi E il problema È che queste specie Quando sono trasportate Dall'uomo In un ambiente Che non compete loro O bene bene O male male Cioè O effettivamente Insomma Muorono subito Perché non sono Capaci di adattarsi Ma se si adattano Spesso e volentieri È il paese Del ben godi Quindi Queste specie All'octone Cioè specie che sono All'octone È il contrario Di autoctono No Autoctono È originario Di un posto All'octono Vuol dire Che è originario Di un altro posto Queste specie All'octone Spesso e volentieri Si trovano In dei posti In cui Hanno un sacco Di cibo Non hanno predatori E sono dei Competitori Super Diciamo Validi Per le specie All'octone Che possono In qualche caso Soffrire molto Mi viene in mente Qualche esempio Italiano Purtroppo Noi di specie All'octone Sia a livello Animale Che vegetale Ne abbiamo Parlando appunto Di andie animali Mi viene in mente Il famoso Gambero Healer Di cui forse Avrete sentito Parlare È questo Gambero In realtà Che è originario Dell'America Che fu Trasportato Qua ormai Molti anni fa Per iniziare Un'attività Diciamo Di allevamento Dovuto appunto Al consumo alimentare Qui tra l'altro In Toscana Poi sono scappati E hanno colonizzato Praticamente Tutti i vari corsi D'acqua Che hanno potuto Su cui hanno potuto Mettere le loro Chele E loro sono Dei mostri Letteralmente Perché dove ci sono Loro Non c'è altro Cioè loro Anzitutto Non hanno Chissà che requisiti A livello di qualità Delle acque Loro Non gliene frega niente Poi soprattutto Sono molto competitivi E scacciano O uccidono E mangiano Un sacco di animali Come per esempio Vari insetti acquatici Sia adulti Che larve O Amfibi Altri crostacei D'acqua dolce Come il nostro gambero Quello autoctono E sono tra l'altro Anche portatori Di una malattia Che colpisce Il nostro gambero Si riproducono Molto velocemente Fanno delle tane Con delle gallerie Ramifiate sugli argini E questo può far sì Che Nelle piene Gli argini Franino Possono anche mettere A rischio Delle colture Di acque Di piante acquatiche Perché insomma Sono onnivori Quindi letteralmente Sono proprio Delle bestiacce Questi gambero E per fare un esempio Quando appunto Questa specie all'octona Fa danni sul continente È facile capire Quanti danni Possa fare Per esempio In un isolotto Perché è vissuto Sempre incontaminato Tra virgolette In cui appunto Questi animali Sono vissuti lì Senza predatori Senza particolari problemi E gli butti Una o più In realtà Specie all'octone Chiaramente Può far sì Che Può essere Che sia un disastro E spesso e volentieri Lo è stato Insomma E anche di questo Ne parleremo ovviamente Più avanti Poi ovviamente Noi ci stiamo mettendo Il nostro meglio Anche per toglierli Fisicamente Di torno Noi Diversi animali Mi viene in mente Il caso per esempio Dei rinoceronti E di tutti E di tutti quegli animali Che sono Dei Come dire Dei Sono in qualche modo Attraenti Per qualsivoglia Motivo Per i vari scopi Come per esempio La medicina tradizionale Eccetera In realtà il corno D'un rinoceronte È fatto di cheratina E quindi ha la stessa Valenza medica Di mordersi le unghie O mangiare i propri capelli Quindi Nel senso anche questo Penso non sia Un problema Arriva a dirlo Mi viene in mente Anche l'esempio Di alcune specie Di orsi in Asia Oppure Tigri e leoni Sempre per gli stessi motivi Anche per esempio Gli elefanti Per l'avorio Quello non ha Appunto un discorso Legato alla medicina tradizionale Ma proprio Insomma Alla Produzione di manufatti Eccetera Si può dire estetica Tra virgolette E anche sugli elefanti Ci torneremo Quindi alcuni Animali Che In numero Sono piuttosto Ridotti Ci stiamo anche Diciamo Abbastanza impegnando Negli ultimi anni Per toglierli direttamente Per più o meno Vari scopi Ovviamente La madre Diciamo Di tutti gli impatti Ecologici negativi È La deforestazione La deforestazione Puoi fare per diversi motivi Sia appunto Legata all'urbanizzazione Cioè devo fare spazio Quindi taglio Sia per fare pascoli Sia per esempio Per prendere legno Insomma O una compenetrazione Di queste cose Allora La deforestazione è Una cosa Che mette in crisi Effettivamente Gli ecosistemi Perché Banalmente Si toglie spazio A A chi In quelle foreste Ci abita E magari sta solo In quelle foreste E non da nessun'altra parte Nel mondo C'è questo discorso Del Per esempio La mazzone Che è il polmone Del mondo Allora quello non è In realtà Così vero Nel senso che Sì ok La produzione d'ossigeno A livello dell'Amazzona Però Non è minimamente Paragonabile Allo scambio d'ossigeno Avviene col mare Quindi ecco Quello sì Però che cosa ho letto Di recente Ho letto che Con il discorso Delle ultime De forestazioni Gli ultimi incendi Addirittura C'è Un Il Diciamo La possibilità Non troppo remota Che La foresta Mazzonica Diventi Una Savana Cioè perché Tagliando tutto Si limita appunto La piovosità Che siamo Foreste pluriali Per un motivo Chiaramente E quindi Poi ritornare Da savana Foresta Ma è un po' più Complicato Insomma Quindi sì C'è questo problema Parecchio Importante Legato appunto Alla Alla deforestazione Che non avviene solo In Amazzonia Purtroppo Insomma avviene anche In tanti altri posti Del mondo Chiaramente c'è un impatto Sulla biodiversità Che è notevole Perché molto spesso Le foreste pluriali Sono i punti dove C'è Ci sono alcuni Dei maggiori hot spot A livello Punti caldi Diciamo A livello di biodiversità Alcuni dei posti Dove nel mondo Ci sono Più Specie in assoluto Diversificate Endemismi Cioè specie si trovano Solo lì Quindi È un problema Oggettivamente Poi visto che siamo In un periodo Un po' particolare Ci metterei anche Il discorso Dei patogeni Perché Come abbiamo visto Se noi andiamo A togliere Habitat A questi animali Salgono anche Le probabilità Di venire in contatto Con questi animali E quindi Con i loro patogeni Ovviamente Quello che è successo Nell'ultimo anno È proprio una Spiegazione Diciamo Da manuale Di quello Che può succedere Se appunto Gestiamo male Il nostro rapporto Con la natura O meglio Con il resto Diciamo Della natura Tendenzialmente C'è anche un altro problema E lo vedremo E lo vedremo Quando si parlerà Dopo D'amfibi Cioè io Trasporto Effettivamente Dei patogeni Da un posto All'altro E questo Che effetto ha Sugli organismi Di quel posto lì Vedremo Quando arriviamo Al discorso Che dicevo prima Allora Di anidride carbonica Presente Ora Nell'atmosfera Comunque I livelli di stress ambientale Sono in qualche caso Compatibili Con quelli Che ci sono stati Nel permiano Nel permiano Per la precisione Insomma Fine del permiano 250 milioni di anni fa C'è stata La più grande estinzione Di massa Della storia Della vita Sulla terra Più grande Ancora Di quella Che ha fatto fuori I dinosauri A parte gli uccelli E un sacco di altre robe Alla fine del cretaceo Insomma C'è uno stress ambientale Notevole Il discorso Del riscaldamento Climatico Ovviamente È un problema Per moltissimi animali Per esempio Possono appunto Avere dei problemi Quegli animali Che migrano in mare Come per esempio Alcune specie di cetacei Grazie Per colpa Di questo innalzamento Di temperatura Ci può essere Una migrazione Un cambiamento Nei pattern Migratori Che fa sì Che ci siano Appunto effetti Negativi Sulle popolazioni Di questi cetacei Oppure mi viene in mente Ad esempio Alcuni animali Che vivono in alta quota Come per esempio Alcuni uccelli Hanno bisogno Di determinati ambienti Come per esempio Praterie montane Eccetera Ad un certo Diciamo Grado di temperature basse È chiaro che se La Temperatura si alza È a quel punto Chiaramente Loro devono Andare Diciamo Salire più in alto Per trovare di nuovo Il freddo Il problema è che Più salgono E meno trovano L'ambiente di Frateria montana Di cui hanno bisogno Quindi arriveranno Arriveranno a un certo punto E sì Saliranno Saliranno Ok Temperatura Ora va bene Ma non c'è più La frateria montana Che mi serve a me Quindi anche lì C'è un problema Dove vanno? Boh Altro problema Per esempio L'innalzamento Del livello del mare Che farà sì Che ci sarà Sempre più erosione Sulle coste E l'innalzamento Del livello del mare Può anche essere Un problema Per determinati organismi Come per esempio I coralli I coralli sono Appunto Diciamo Ancorati Per così dire Alla scogliera Che hanno costruito Però hanno bisogno Di essere vicini Alla luce Chiaramente Poi vedremo perché Se appunto Il mare si alza Anche di poco La luce arriva peggio E quindi loro hanno Diversi problemi Per sopravvivere Insomma E quindi muoiono Perché hanno bisogno Della luce E qui arriviamo anche Al discorso Dell'innalzamento Della temperatura E l'acidificazione Degli oceani Perché i coralli Hanno Dei simbionti Chiamati Zoxantelle Che sono questi Piccoli organismi Fotosintetici Che danno Anzitutto Il colore al corallo E poi gli danno Anche facendo la fotosintesi Delle sostanze utili Al nutrimento Del corallo Che può dipendere Più o meno A seconda della specie Da queste sostanze E ovviamente Il corallo In cambio Gli da un posto sicuro Dove vivere Nei suoi tessuti Ecco Quando appunto La temperatura Si alza Eccetera Le zoxantelle Abbandonano il corallo E quindi si sbianca Questo è un po' Il discorso E quindi il corallo Alcune specie Possono effettivamente Risentirne Talmente tanto Dall'assenza Di queste sostanze E poi muoiono Quindi insomma Anche lì È un altro problema Ci sono dei segni Di ripresa In qualche posto Di coralli Non parliamo sempre Di cose brutte Però ecco Diciamo Tendenzialmente Il problema c'è Perché vi parlo Di tutte queste cose Perché sono cose Ovviamente Questo stress ambientale È causato Dall'attività umana Sul pianeta È ovvio Questo è Che che ne dica Qualunque negazionista Del cambiamento climatico Che andrebbe chiamato Riscaldamento globale Non cambiamento Perché cambiamento Può averci anche Un'accezione positiva Cosa che in questo caso Non è Né per gli altri Né per noi Insomma Che che ne dia Qualsiasi negazionista Del riscaldamento globale Cioè nel senso C'è chi dice Che è causato Dall'attività umana Non è vero Cioè no In realtà I dati sono quelli E sono abbastanza Incontrovertibili E quindi tendenzialmente Questo è Ovviamente Andando avanti Vi faccio vedere Un'altra cosetta Un attimo Che faccio La Ok Dividiamo Questo è forse Uno degli emblemi No Dell'estinzione Causata dall'uomo Ovvero il dodo Il dodo era Questo uccello Che viveva appunto Nel Sull'isola di Mauritius Famoso per essere Un uccellone Grasso e stupido Che i marinai Si sono mangiati Fino all'ultimo Ecco in realtà Le prime testimonianze Del dodo Che abbiamo scritte Non ci parlano Di un animale Particolarmente buono Da mangiare Quindi Tendenzialmente Il dodo Non doveva essere Uno spettacolo Quindi anche l'idea Che se lo siano mangiati Fino all'ultimo I marinai È un po' Da accantonare A me il dodo piace Perché è uno Di quegli animali Che tutti pensano Di conoscere Ma che in realtà In pochi conoscono Veramente Nel senso che Questa è l'immagine Una forse L'immagine più famosa Del dodo È un dipinto Del Del 600 E tutti hanno in mente Quest'immagine del dodo Però è sbagliata Nonostante abbia fatto Breccia nella cultura popolare Il dodo Non è questo Il dodo Che è stato scoperto I primi contatti Sono stati a fine 500 Con gli olandesi Che ci istituirono Una colonia penale A Mauritius Poi dopo Ci andarono i portoghesi Eccetera Quindi un po' Di testimonianze Del dodo Ce l'abbiamo Le prime Sono diverse Da questo E grazie anche allo studio Dei resti fossili Di dodo E sub fossili Quelli più recenti Abbiamo capito Un po' meglio Il suo aspetto Perché dico fossili Perché Qualcuno potrebbe dire Ma questo dodo L'hanno dipinto L'avranno anche impagliato Ci sarà qualche museo Che ce l'ha Qualc'è il resto di dodo La risposta è sì Ma è pochissima roba Perché molti musei Negli archivi storici Effettivamente hanno materiali Di dodi Ma sono materiali Molto scarsi O animali Imbalsamati Male ricostruiti Oppure Addirittura calchi Di piedi O addirittura Pezzi parziali Di faccia Momificata Eccetera Quindi tendenzialmente Questo abbiamo di dodo Ben poco Qualche osso Eccetera Parlando di reperti Raccolti in questo periodo storico Un periodo storico In cui l'hanno scoperto E probabilmente li conservavano male Molti furono costretti Magari a buttarli Perché si erano conservati bene E oltretutto Alcune Molte delle persone Quasi tutte in realtà Le persone che dipingevano O impagliavano I dodo In parte anche ricostruendoci E mettendoci del loro Non l'avevano mai visto Un dodo dal vivo Quindi si rifacevano molto A cose sentite Che hanno creato Un telefono Senza fili Infinito In cui le persone Hanno avuto Un'immagine del dodo Che era questa Ma in realtà il dodo Non è fatto così E paradossalmente Sappiamo più sui fossili Trovati Alle Mauritius Fossili di dodo Fossili o subfossili Quindi resti Comunque hanno Almeno Almeno Qualche migliaio di anni Che quindi sono molto precedenti Alla scoperta Diciamo del dodo Da parte Degli esseri umani Abbiamo più informazioni Su questi materiali Che su Effettivamente Campioni Che vengono Effettivamente Da dei dodo Presi in tempi storici Come appunto Ossa O roba Mummificata Eccetera Quindi roba Interessante È distrutto Mito praticamente Perché tutti Sapevano Queste immagini Esatto E infatti Ora vi faccio vedere Il dodo Quello vero Come si suppone sia Sulla base appunto Dei dati In nostro possesso Quindi appare Anzitutto Molto più magro Il colore È diverso In realtà Il colore Matcha abbastanza Un Alcune delle Alcune raffigurazioni Siamo Per quanto riguarda La snellezza Alcune Antichissime Antichissime Insomma Alcune delle primissime Raffigurazioni Che abbiamo del dodo E il colore È Molto simile A quello Che Infatti è La principale Fonte D'ispirazione Probabilmente C'è un solo Dipinto Che fa vedere Un dodo Che è stato Dipinto dal vivo Però per qualche motivo Tutti l'hanno sempre Preso per Per buono L'altro dodo Perché a livello Culturale Ha avuto Un impatto Un impatto notevole Era un uccello Molto più Snello Comunque Il dodo A cui siamo Abituati Era Super Grasso Questo Da cosa Può essere Causata Probabilmente Il fatto Che fossero Rappresentati Dei dodo Molto Molto Grassi Può voler dire Che Quei Da dove Sono partiti Quelle raffigurazioni Erano dodo Domestici Dodo Perché il dodo Sappiamo che Veniva anche Catturato E inviato In dono A diverse Eminenti Personalità Dell'Europa E molto probabilmente Erano dodo Domestici Iperalimentati Quindi Alimentati Anzitutto in modo Sbagliato Ma poi anche Iperalimentati Quindi Erano dei dodo Veramente Veramente Sovrappeso Il dodo Doveva essere Un animale Più simile A questo Per quanto Ne sappiamo Altro mito Che mi preme Di distruggere È questo Allora Questo è un dipinto Di inizio novecento Che Rappresenta Il famoso Dodo bianco Perché Appunto Si sa No Di dodo Ce ne erano due Quello normale Tra virgolette E quello bianco Allora Vi dico subito Che il dodo bianco Non è mai esistito Questo era Il probabile aspetto Di quello Che chiamavano Dodo bianco Che era appunto Un animale Di un'isola vicina Anche lui Estinto Per causa dell'uomo Che Però Non è un dodo È più simile A un ibis È un parente Degl'ibis E il dodo Invece è un parente Dei piccioni Pensate un po' E quando ci sono Dei dodo Diciamo Con il piumaggio Bianco Che solitamente Venivano fatti Con le penne Le piume Di oche Cigno E roba del genere Come quello Per esempio Che c'è in mostra Quello storico Ricostruito Al museo di storia naturale Di Londra Sono in realtà Degli animali Fatti Da persone Che un dodo Non l'aveva mai visto E che quindi Hanno ricostruito Diciamo Un dodo Impagliato Confezionando Il piumaggio Con penne Di Di oca O di O di cigno Quindi anche lì Altro mito Dodo bianco Mai esistito Dodo è stato considerato Da sempre un'icona Dell'estinzione Per causa dell'uomo In realtà Questo Già fu fatto Non molto dopo La sua estinzione Che avvenne In realtà Meno di 100 anni Probabilmente Dopo la sua scoperta Si parla di Tipo Seconda metà del 600 Già il dodo era estinto Le date sono discordanti A seconda delle fonti Ma comunque Tendenzialmente Entro il 600 Il dodo era estinto E già Non molto dopo Iniziarono a considerarlo Già prima In realtà Della L'istabrassi Di una vera e propria Coscienza ecologica Chiamiamola così Il dodo era un esempio Comunque Dell'estinzione Fatta a causa dell'uomo Quindi comunque Un animale Che nel Parlando di questo tema Nel nostro immaginario Ha un ruolo Per così dire Preponderante Insomma E questo è Come sparì il dodo Come vi ho detto prima Non ce lo siamo mangiato Probabilmente Fino all'ultimo Come si leggeva Anni fa Probabilmente Il dodo è scomparso Perché gli abbiamo Tolto parte Del suo habitat E È stato Diciamo Oggetto Delle attenzioni Di diverse Specie all'octone Che gli abbiamo portato Là Per esempio I cani E i gatti Che potevano appunto Predare i piccoli Di dodo O le sue uova Magari cani grossi E anche dodo adulti Chi lo sa Anche se col becco Si doveva difendere Abbastanza bene Però insomma O per esempio Anche i maiali E i topi Che potevano Mangiarsi le sue uova Perché il dodo Nidificava a terra Perché non c'erano Predatori Dove si era Evoluto il dodo I suoi antenati Erano Appunto Dei similcolombi Per intendersi Che Che volavano Poi una volta Arrivata le Mauritius Si stabilirono qua E col tempo Fu selezionato L'aumento di taglia La perdita Appunto Dei muscoli Voluminò La perdita di volume Dei muscoli Del volo E quindi Una Riduzione anche Della dimensione Delle ali Eccetera Eccetera Per esempio Anche le capre Che Tolsero spazio Diciamo E divennero Dei compositori Alimentari Per quanto riguarda Il dodo Probabilmente Anche le scimmie Ci portammo Alle Mauritius Se non sbaglio Quindi comunque Probabilmente Perdita dell'habitat E special octone Furono Tra i più Tra i più Importanti cause Per L'estinzione Di quest'animale Quindi loro Sì Qualcuno Comunque Se l'è mangiato Qualche volta Quindi povero dodo Questo punto di vista Insomma Non si scappa Ora Andando avanti Mi premerebbe Invece farvi Vedere un animaletto Che Questo non lo conoscano In tanti A differenza del dodo Questo si chiama Rospo dorato È un animalino Vissuto appunto Cioè Che viveva in costa rica In realtà Viveva Pensate In un'area Di circa Dieci chilometri Quadrati Ad una certa Altitudine In un pezzo Di foresta Proprivale Della costa rica In fondo Vedete C'è il maschio E la femmina Il maschio Era quello Dorato Effettivamente La femmina Invece Era un po' Più grossa Come appunto Si È la norma In realtà Per gli anfibi In genere E con un pattern Diverso Molto colorato Rospettino Di piccole dimensioni Molto bellino Che fu scoperto Fu classificato Diciamo Negli anni Sessanta E fondamentalmente L'ultimo Che abbiamo visto In natura Era credo Nell'89 Nel 2004 È stato dichiarato Estinto Quindi fondamentalmente È un rospetto Che non c'è più E fa impressione Perché del dodo Abbiamo qualche resto Scarno E i dipinti Di questo Ci abbiamo le foto Quindi fa Già un po' Più strano Pensare che una cosa L'abbiamo fotografata Ed è irrimedialmente Perduta Questo rospetto Che già viveva In delle condizioni Super specifiche Perché comunque Come vi ho detto Stava in una In un'area Molto ristretta De questa foresta Della Costa Rica Eccetera eccetera Quindi Comunque era un animale Molto fragile Perché insomma Chiaro capire Insomma Chiaro Si apisce Anche il perché Addirittura Delle Probabilmente Alcune Fenomeni Di siccità Particolarmente Spinta Che potrebbero essere In realtà Appunto in linea Con quello che sta succedendo Al discorso Con il discorso Del cambiamento Climatico Nel nostro pianeta Fece Che diverse Pozze Secassero Che quindi le uova Non ci fossero Per alcune stagioni Del ricambio generazionale Mettiamola così E L'area in cui Stavano questi rospi Era protetta Ma Questo non Protesse Gli alberi Aldi fuori Da subire Comunque un po' Di Deforestazione Quindi questo potrebbe Anche aver Influito Oltretutto Gli anfibi Perché dicevo prima Che non ce la fanno Tanto a reagire Bene a queste cose qua Perché gli anfibi Sono animali Molto fragili Sono degli animali Che spesso e volentieri Sono dei bioindicatori Cioè Se ci sono degli anfibi In determinate condizioni Allora sai Che quello è un ambiente sano Perché loro Come diciamo Cambia In peggio Ovviamente Il Come dire Il Per esempio La presenza Di inquinanti In acqua Eccetera Loro ne risentono Subito E Muorono Spesso e volentieri Spariscono Quindi Tendenzialmente È un problema Per loro Gli anfibi Sono un ottimo Campanello d'allarme E c'è un'ecatombe In corso Di anfibi Sia per il discorso Del cambiamento Di climati Eccetera Anche perché comunque Siccità Eccetera Ci fa capire Che è chiaro L'aumento Di Di Siccità Fa sì che Si Si secchino Ovviamente Più pozze D'acqua Che sono L'habitat Di questi Anfibi E di conseguenza Va da sé Che è un problema Parliamo Qualche giorno fa Dell'ululone Ad esempio Ah beh Sì Esatto Lui Con la siccità Ha grossi problemi Tra gli altri Anfibi Sì sì No Infatti l'ululone È una specie Che Il nostro Insomma Il nostro L'ululone L'ululone appenninico È una specie Comunque Sott'occhio Tra virgolette Insomma Per quanto riguarda Progetti di conservazione Eccetera Anche giustamente E quindi Diciamo Un habitat Ricononizzato Dagli anfibi In un habitat Da cui erano spariti Che viene Ricononizzato Da questi anfibi È In realtà Può esserne Una cosa di cui Puoi andare contento Ecco Mettiamola così È sempre bello Diciamo Quando succede Non succede sempre Insomma C'è un problema Ritorniamo Facciamo un passo in dietro E ritorniamo Quando parlavo Del discorso Dei patogeni Va bene Quest'anno Massimo esempio Di quello Che può succedere Venendo in contatto Con patogeni Di altre specie Eccetera In realtà Noi però i patogeni Li portiamo anche un po' A giro No Questo l'abbiamo sempre fatto In realtà Parlando però Di anfibi Mi vengono in mente Degli esempi Che sono Alcuni funghi Del genere Batracochitridium In realtà ce ne sono due specie C'è una specie Che è particolarmente Affezionata Per così dire A rane e rospi E un'altra specie Che è particolarmente Invece appassionata Di salamandre E tritoni Vengono rispettivamente Dalla Corea E dal sud-est asiatico Come origine Ma ci sono ora In diverse parti del mondo Perché? Allora Il commercio Di anfibi A scopo anche Terraristico Eccetera In varie parti del mondo Ha fatto sì Probabilmente Che si diffondesse In zone appunto Dove prima Non c'era Il problema è che Questo fungo Questi funghi Che causano Praticamente Delle lesioni Che poi si rivelano Letali Insomma Alla pelle Di questi anfibi Dipende anche lì Dalla specie Alcune specie Sono più suscettibili Altre un po' meno Ma comunque Bene Non fanno mai Tendenzialmente Nei luoghi In cui sono originari Chiaramente Gli anfibi Che fungono Sono da ospiti Per questi Per questi funghi Hanno chiaramente Più Carte Da giocare Contro Di loro Perché ci si sono Coevoluti Quindi comunque C'è stata un minimo Di adattamento A resistere A questo fungo E in una sorta Di classico Esempio Biologico Di lotta Agli armamenti Corsa agli armamenti Tra In questo caso Tra ospite E parassita Quindi Tendenzialmente Non sono Quegli anfibi Che hanno problemi Sono gli anfibi Degli altri posti Che non conoscevano Questo Questo parassita E che ahimè Ci si sono ritrovati A lottare contro Senza avere Via Spesso e volentieri Di Di Scampo Perché ripeto Alcune specie Riescono a resistere All'infezione Abbastanza bene Altre Sono Completamente Alla merce Di questi Di questi funghi E Hanno un tasso Di mortalità Che è Enorme Insomma Muoiono Non dico Il 100% Dei casi Ma Comunque Molto spesso Insomma La maggior parte Delle volte Ecco Quindi C'è anche questo Da stare attenti Quindi anche Questo portare Patogeni Che è quindi Un discorso In realtà Legato Dalle specie All'octone Ancora una volta È Un problema Importante Insomma Per esempio Chi ha anfibi In cattività Anfibi esotici Per esempio Non dovrebbe Disperdere Praticamente L'acqua Magari si è fatto Un cambio D'acqua Eccetera Dell'acquario Se sono anfibi Che stanno In acquario Eccetera Non dovrebbe Poi liberarla In un ambiente Dove c'è il rischio Che venga In contatto Con Anfibi Locali Perché Chiaramente Se il tuo Anfibio Che viene Da là Ha questo fungo Ma non lo Ma non manifesta L'infezione Perché comunque La tiene sotto controllo Non è un problema Per la sua vita Però l'acqua È contaminata Se te la butti In un posto Dove ci sono Degli anfibi Tuoi Tra virgolette Insomma Del tuo paese È chiaro Può essere un problema Perché a quel punto Il fungo è lì Che si sfrega le mani E fa una strage Insomma Quindi Bisogna stare Anche attenti Insomma Sotto questo Sotto questo punto di vista Altra cosa interessante Di cui mi piacerebbe Parlarvi È questa Un attimo Ritorno sulla presentazione Oh Allora Questo Che Che mi rappresenta Sto Sto topastro Allora Questo qui Si chiama Melomis Rubicola Ed è il cosiddetto Ratto Dalla coda di mosaico Allora Il ratto Dalla coda di mosaico Era originario E tra l'altro C'è anche un corallo Morto Va tra l'altro Fa colore In basso Questo ratto Era originario Di una Di un'isoletta Dello Stretto di Torres Quindi siamo Credo politicamente Fosse assegnata All'Australia Si Quindi un'isoletta Australiana Allora Questo qua Che voi vedete Qui tranquillamente A fare le sue cosine È molto probabilmente Il primo mammifero Che si è estinto Parlando di mammiferi Che si è estinto Per il cambiamento Climatico Cioè Questo ratto Non c'è più Era solo in quell'isoletta Probabilmente L'innalzamento Del livello Del mare Degli ultimi anni Ha fatto sì Che si distruggesse Il 97% Mi sembra fosse Per cento Del suo habitat E questo ratto È scomparso Non c'è più Cioè è un Stato dichiarato estinto Nel 2014 E ripeto È il primo Mammifero Ad essere stato Dichiarato estinto Per colpa Dei cambiamenti Climatici Infatti Qui c'è un discorso Da fare Sulla percezione Che si ha Di questi Del pericolo Di questi Di questo Riscaldamento globale Il discorso Lavoriamo Per non lasciare Una terra Messa male Ai nostri nipoti Non funziona più Poteva funzionare Trent'anni fa Quaranta anni fa Perché queste cose Si sanno da diversi anni Non è che è uscita ora Cioè I scienziati ne parlano da tanto Poi Perché non siano stati ascoltati Dalle persone Quello è un altro Problema Insomma È anche un po' Colpa loro Forse la scienza Non è stata Troppo elitare Non c'è stato nessuno Che ha fatto Da tramite In modo efficace Tra i ricercatori E le persone comuni Questo però È un altro discorso Legato A problemi Della comunicazione Tra scienziati E no Ma questo Insomma Non ci interessa Adesso A parte questo Il problema è ora Cioè Trent'anni fa Potevamo fare un discorso Lavoriamo Per aiutare I nostri nipoti Ora bisogna lavorare Per aiutare noi Cioè non c'è più un problema Che dicassi anche Nell'altro discorso Invece Ah lo rimando Tanto non è un problema mio Sarà un problema Dei miei nipoti Eh no Non è un problema Più dei suoi nipoti È un problema tuo Adesso Siamo in una condizione In cui Il problema è Nostro Non Dei nostri nipoti Quindi questo è Una brutta Un brutto boccone Da digerire Ma è Ahimè La verità Tra l'altro Andando avanti Io vi faccio vedere Un'altra cosa Parlando sempre di Mammiferi istinti Parliamo di roba Un po' più grossa Allora Questo penso che Vi sarà venuto in mente Di cosa si possa trattare Questo è un cercatore Di Ossa di mammut In questo caso Zanne Ovviamente Che sono la parte Ovviamente più ghiotta Poi vedremo perché Che in Siberia Ha trovato appunto Questa Questa zanna di mammut Ora Le zanne di mammut In Siberia Sono diventate Un po' L'oggetto Di una sorta Di caccia all'oro Che sta Appunto prendendo Sempre più piede Negli ultimi anni Perché Vengono ovviamente Vendute Perché appunto Nelle zanne mammut Se sono conservate bene Ovviamente c'è L'avorio Alla strega Delle zanne Di qualsiasi altro elefante Vengono vendute Per esempio In Cina E Chi Appunto Vive in queste zone Della Siberia Ci campa un anno Con quello che Riceve Dalla vendita Di una zanna Il problema qual è? Può sembrare Una cosa innocua In realtà Non lo è Nel senso che Chi Si mette a cercare zanne Perché è vantaggioso Le vende di contrabbando Quindi in teoria È illegale Prima cosa Perché il patrimonio Paleontologico del paese Viene ovviamente Dilapidato E tutto quanto Quindi questa è la prima cosa La seconda è Perché si mettano A vendere zanne A cercare zanne O roba Comunque Della megafauna Pleistocenica Che sputa fuori Dal permafrost Ecco Lo fanno Perché è più redditizio E più facile Che fare quello Che hanno sempre fatto Fino ad ora Ovvero Coltivare Questa Terra E Cacciare Gli animali Appunto Che qui Vivevano Per un semplice motivo Si sono intensificati I ritrovamenti Di questi mammut Dal permafrost E Può sembrare Una cosa Interessante Positiva In realtà Non lo è troppo O meglio Non è solo positiva Nel senso che Perché si stanno Intensificando Per via Del riscaldamento globale Il permafrost Si scioglie sempre A tassi maggiori E quindi Ti comincia a sputare fuori Tutta una serie di roba Che è lì Dal Pleistocene E Questo non è un bene Perché Questo Questa attività Di Gelo e disgelo Deforma il territorio E Anzitutto Deforma le strade Delle Popolazioni Che vivono qua Peggiorando Ovviamente Insomma Le vie di comunicazione Rende sempre più difficile Coltivare la terra Può distruggere Appunto Le stalle I fenili Perché appunto Il terreno Si deforma Insomma Interrompe i pattern Migratori Degli animali Che hanno sempre Cacciato queste popolazioni Per sopravvivere E quindi Ha una certa Dicono Vabbè Se devo vivere così Tanto vale Che Insomma Mi metto a fare questo Però appunto Ci sono gli altri problemi Tra l'altro C'è anche il rischio A livello infettivo Anche se ovviamente I germi sono meno attivi A temperature bassi A me quelle di questi posti Rispetto per esempio Ai tropici Ma c'è il problema Comunque Che spesso e volentieri Al deformarsi di questo terreno Fa sì Che si Che Diciamo Vengono sputati Tra virgolette Dalle tombe I cadaveri Che non è sempre Prenosa positiva Altro problema Il lavorio di mammut Vi ho detto prima Farlo di contrabbanda Eccetera È illegale Però comunque I mammut Sono animali estinti Non è che li ammazzi Per prendere il lavorio Come fai con gli elefanti Quindi Forte di questa Di questa Di questa falla Tra virgolette Legale Spesso e volentieri C'è chi spaccia L'avorio di mammut L'avorio di elefante Scusate Per avorio di mammut In quel modo Stai vendendo Dell'avorio illegale Come avorio legale Quindi C'è anche Il fatto Che i mammut Potrebbero essere Gli animali I primi animali estinti A diventare animali protetti Che fa molto strano Perché appunto I mammut L'anosi In questo caso Stiamo parlando di mammut lanosi Che di mammut ce n'erano diversi In questo caso Mammut lanosi Mammut lanosi sono estinti Quindi Perché dovresti metterli Come animali protetti E se non ci sono più Per proprio prevenire E combattere Questa cosa qua Dell'avorio Perché se no Non c'è una regolamentazione Che ne impedisce Appunto questa cosa Quindi Anche questa cosa Molto Strana Insomma Se Se ci si pensa Quindi tendenzialmente I problemi Legati appunto A questo fatto Del riscaldamento Climatico Ed Che è appunto Causato appunto Dall'uomo Si riflettono In un sacco Di situazioni Anche in modi Veramente inaspettati Insomma E secondo me È molto Impressionante Il fatto che Già Stiamo cominciando A perdere in questi anni Delle specie A causa Di questa cosa qua Non è più Ripeto Un problema Dei nostri nipoti È un problema nostro E noi E noi le pagheremo Lo scotto Se non facciamo qualcosa Entro la nostra vita Tra virgolette Diciamo sì Ma sarà un problema Delle generazioni dopo Già Tra 30 anni Per dire Ci saranno Dei cambi In peggio Se appunto Non si Non si Fa qualcosa Quindi tendenzialmente Noi Comunque Questo viziaccio Lo avevamo Anche prima Comunque Della Della Rivoluzione Industriale Per così dire Ok Che ogni specie Che raggiunge Una Un nuovo Territorio Tende ovviamente A sfruttarlo In tutti I modi Che può Però noi Che abbiamo La possibilità Di renderci conto Di determinate cose E abbiamo Appunto perso Degli animali Super iconici Stiamo Rovinando Degli ecosistemi Che sono Di fondamentale Importanza Per la salute Del nostro Paneta E anche La nostra E va bene Che ai tempi Del dodo Non c'era Una vera e propria Non c'era Proprio Una coscienza Ecologica Ovviamente Una cosa È avvenuta Molto dopo Però Adesso Che comunque Abbiamo l'occasione Di renderci conto Delle baccate Che abbiamo fatto Sarebbe il caso Di appunto Porvi rimedio Quando possibile Quindi Spazio all'umanità Vero Però Siamo calmi Nel senso Grazie Willy Di questo Bellissimo Intervento Anche Molto Curioso E soprattutto Ci hai svelato Un fatto Partendo dal Dodo Eh beh Dodo Insomma Esatto Ma anche Lavorio Adesso Come dicevi De Mamute Mamute Lanone Piuttosto Che L'elefante Insomma Veramente Particolare Anche quello Almeno per l'estinzione Del mammut Non dovremmo Aver colpa Però Va bene Per l'estinzione Di tante cose In contesti Insulari Sì abbiamo Colpa Completamente Noi Nel caso Del mammut Non dovremmo Aver colpa Noi Cioè I nostri Atenati Lo cacciavano Mammut Lanoso Però È molto più Coerente Con il discorso Dei Cambiamenti Climatici Avvenuti Dopo l'era Glaciale Che questo Mammut Abbia perso I suoi Classici Ambienti In cui Viveva Quindi Almeno quella cosa Non è colpa Però ci stiamo Stiamo rifacendo Con gli elefanti Di oggi Però Rino Ceronte Non ne parliamo Sì esatto Bene Grazie Grazie E Grazie Grazie Sfutarti Speriamo Di rivederti Nella prossima Edizione E niente Grazie Ancora Di tutto E Direi Alla prossima Va buono Grazie A voi Grazie A tutto Lo staff E grazie A chi Ci ha Seguito Grazie Ciao 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 Ciao